Salve a tutti amici di focustech.it, oggi voglio focalizzare la vostra attenzione su un'azienda chiamata Jabra ed in particolare sulle cuffie Jabra Sport Pace, cuffie ottime da vedere e da sentire. Le cuffie si mantengono ben salde all'orecchio ed offrono una qualità audio eccellente per tutti gli utilizzi. Sono inoltre dotate di due funzioni molto importanti, le Jabra Sport Pace sono resistenti all'acqua e al sudore, funzione molto importante per gli sportivi. Il prodotto è dotato inoltre di ricarica veloce, che permette alle cuffie di ricaricarsi più velocemente rispetto alle altre cuffie bluetooth sul mercato. Le cuffie sono contenute in una scatola molto elegante. All'interno, oltre alle cuffie in questo caso di colore blu, c'è un libretto con all'interno le istruzioni, i vari gommini che possono essere sostituiti ed infine il cavetto per la ricarica. Le Jabra Sport Pace hanno un design elegante e soprattutto moderno. Sul lato esterno troviamo il tasto Play Stoop ed in basso troviamo uno spazio dove è possibile inserire il cavetto per la ricarica. Le cuffie che sono state concepite per chi fa sport possono tuttavia essere utilizzate anche quando non si sta eseguendo un allenamento. Le cuffie sono costruite in modo che si adattino perfettamente all'orecchio per non avvertire nessuno spostamento delle cuffie durante il movimento. Le Jabra Sport Pace si indossano con un gancio auricolare ed è essenziale che siano messe in modo comodo e saldo per garantire un'esperienza audio ottimale. A migliorare ulteriormente la qualità del marchio e delle cuffie, il team di Jabra ha ideato e progettato anche un'applicazione che permette di migliorare l'audio delle cuffie durante la modalità di ascolto musica. Una volta scaricata l'applicazione da Google Play o App Store è possibile iniziare la configurazione delle cuffie Jabra. L'applicazione alla bio chiede di specificare sesso, altezza, peso, data di nascita e il modello delle cuffie acquistate. Per iniziare la configurazione bisogna accendere le cuffie attraverso l'apposito tasto e tenerlo premuto fino a quando la luce blu non si accenderà. Bisogna inoltre abilitare la connessione Bluetooth sul cellulare in modo che le Jabra Sport Pace vengano visualizzate nell'elenco Bluetooth per stabilire una connessione. L'applicazione è utile a coloro che fanno sport ed è un modo per distinguersi dalla concorrenza. Infatti l'applicazione ci permette di iniziare un allenamento, visualizzare la durata dell'allenamento e calcolare inoltre le calorie smaltite. In conclusione posso solo consigliare l'acquisto di queste magnifiche cuffie. Infatti durante l'utilizzo quotidiano non ho riscontrato problemi. Le cuffie sono acquistabili sul sito ufficiale Jabra al prezzo di 99€. Anche per questa video recensione è tutto ma come sempre presto ce ne saranno altre.